La posizione dell'azienda Ravennate Mib Service, sospettata di avere tra l'altro evaso le imposte, era già stata denunciata da tempo da CGL e Filcams ed è oggi il centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza. L'operato dell'azienda, che pare coinvolgesse centinaia di imprese del sistema ricettivo del territorio, della ristorazione e dei pubblici esercizi, si basava su pratiche contrattuali, irregolari e su condotte illegali. La questione Mib Service sostanzialmente era un sistema che si era creato e che ammalava un determinato settore che è quello della ristorazione e della stagionalità nella nostra riviera, spostandosi poi successivamente e strutturandosi in maniera anche di insinuarsi e di entrare all'interno della città, degli esercizi della città. Abbiamo sempre sostenuto che non si può dare in terziarizzazione un'intera azienda, tra l'altro anche il datore di lavoro che continuava poi a essere formalmente ancora il datore di lavoro e colui che impartiva poi dopo le direttive ai dipendenti, facendo sì che poi dopo ci fossero uno sgravo notevole dei costi attraverso della trasferta Italia, quindi delle omissioni contributive e questo era un danno per l'erario e soprattutto era un danno anche per i lavoratori. E questo della Mib Service era un sistema che non creava assolutamente lavoro sano, ma creava invece un lavoro povero, privo di tutele per i lavoratori. E noi dobbiamo dare dignità a questi lavoratori attraverso un lavoro che presenta tutte le caratteristiche di legalità che sono fondamentali poi per una ripresa del nostro Paese.